La sindaca di Battipaglia blocca il sanzificio per inottemperanza delle prescrizioni richieste. A sancire il blocco un'ordinanza che si pone in linea con quella che viene definita la battaglia per l'ambiente della prima cittadina. Una battaglia ambientalista che non si ferma, si legge nella nota del Comune. L'amministrazione comunale infatti è in attesa del provvedimento provinciale che è indirittura d'arrivo, come da intese tra regione, provincia e comune, per bloccare i rifiuti con il criterio di saturazione sostenuto dall'assessore allo sviluppo urbano Davide Bruno.